Gira la ruota, gira la, la, la. Allegria, amici! Ecco, bene, abbiamo girato la ruota e si è posizionata su 500 euro. La frase da trovare è proprio questa. Mi dica, signora Tamagnini, perché esiste la quaresima? Allegria! Una domanda. Perché nella Chiesa Cattolica si vive il periodo della quaresima? Vorrei anche aggiungere questo. A che cosa ci invita la Chiesa in quaresima? Grazie. Ciao Agatha, scusa ma credo che all'inizio mi avesse un po' preso l'anima del compianto Mike Buongiorno. Però, alla domanda che serve a farti vincere 500 euro, sì almeno, dobbiamo rispondere. Sebbene anche tu, come altri, sei stata molto furba e hai posto due domande invece che una. Puoi vincere mille invece che 500? A parte gli scherzi, mi chiedi perché esiste la quaresima. Essa è una parte dell'anno liturgico e si trova strettamente connessa con la Pasqua. La quaresima, infatti, è il cammino di preparazione per imparare a vivere da risorti nel nostro quotidiano. La quaresima, dunque, esiste perché Gesù è morto e risorto per noi. Ed è importante che ciascuno ne prenda coscienza. Si prepari. Non viva la Pasqua come un qualsiasi altro giorno dell'anno. La quaresima esiste perché il cristiano impari a pregare, impari a digiunare e a fare l'elemosina. Cioè impari ad avere un cuore aperto, attento alle necessità di ciascuno e non rinchiusi nelle proprie miserie. Per questo la quaresima è un tempo che la Chiesa ci invita a vivere dove? In parrocchia. Certo, è pieno di posti in cui possiamo andare per imparare tutte le buone pratiche del cristianesimo, ma non c'è un luogo come la parrocchia, se vogliamo davvero respirare lo spirito della quaresima, che è la conversione. Di solito, chi cerca altri luoghi è gente che pensa di non aver bisogno di cambiamenti. È gente arrivata, che vive la propria partenza alla Chiesa in modo forte, credendo di non aver più nulla da condividere con noi, poveri miscredenti delle parrocchie. Invece tutti noi siamo in cammino. La Chiesa ci invita a vivere la nostra conversione, a pensare di sbagliare, più che di aver fatto il bene, a pensare di aver bisogno di aiuto, più di saper camminare da soli. Per questo, dal parroco all'ultimo dei bambini del catechismo, siamo tutti invitati a vivere insieme la quaresima, con gesti concreti di preghiera, digiuno e solidarietà. La Chiesa ha inventato la quaresima, imitando i 40 giorni di Gesù nel deserto, ma sono tre i temi, per finire con una sintesi, che ci vengono offerti ciclicamente. La riscoperta del battesimo, con lo sguardo del neofita, dell'ultimo arrivato, che cerca di capirci qualcosa, l'anno ha. La crescita di consapevolezza che siamo figli di Dio in quanto tale amati, benedetti da Lui, che di noi è orgoglioso, perché non ci giudica mai nell'istante, ma guarda tutto lo scorrere della nostra vita, quest'anno, l'anno B. La decisione di aderire all'amore del Padre, rinunciando alle seduzioni del peccato e della morte, nella consapevolezza che se lo facciamo per davvero, o almeno ci impegniamo fin da ora a farlo, Dio non smetterà di usare misericordia, l'anno C. Insomma, non so se questa spiegazione ti permetterà di vincere i 500 euro o i 1000, so però che se la ascolterai e di nuovo e la metterai in pratica, potrai sperimentare la gioia di Dio e dormire sonni tranquilli, come fanno quei due dormiglioni di Casper e Newman in questo momento. Grazie per la visione!